Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Prev, prev, previ si è venuto qui e anche lì dietro quando ho pensato a che cosa aveva fatto a desiderare però su morte Che cazzo? Dukes ha sempre pensato che lui nascondesse qualcosa C'è un altro omicidio che devo affrontare, non sarà facile se solo tutto fosse così semplice Dexter qualsiasi cosa pensi di fare non farla Devo proteggere il mio seguito, altrimenti non la mia vita, non la sua, saranno che le stesse. Ma che stracazzo di porcato è successo. Che stracazzo di porcato è successo. Mio lo spiegato. Tu hainadze. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS